E buonasera, ci vediamo anche oggi per iniziare un nuovo argomento, un argomento tutto sommato abbastanza tosto, abbastanza complesso, che ci terrà occupati per parecchie lezioni per riuscire ad apprenderlo, nel senso che la teoria sarà relativamente rapida ma poi serve molto esercizio per riuscire poi a digerirlo essenzialmente. L'argomento appunto è quello della ricorsione che è la parte algoritmica più complessa che tratteremo in questo corso, quindi se vi consiglio di cominciare a guardare queste parti dopo essersi ben riposati, prese un buon caffè e potete quindi guardare il video quando volete, quando sarete nelle condizioni mentali di poterlo fare perché richiede un minimo di ragionamento e di astrazione. Non è uno scherzo la verità, nonostante sia il primo aprile questo e io abbia un pisciolino d'aprile qua, non è detto solamente per dire ma effettivamente è un argomento, come dicevo, ci staremo sopra quasi un mese per riuscire essenzialmente a riuscire ad entrare nel modo di ragionare. Questo è un grosso modo la scaletta ma non tratteremo tutti questi punti, questi sono essenzialmente molti esempi che verranno svolti per riuscire proprio a catturare il modo di ragionare. Di fatto la ricorsione è una tecnica per risolvere dei problemi, problemi algoritmici che si basa su una strategia dividi e conquista, dividi e comanda, che è un principio diciamo così militare che risale ai tempi dell'impero romano ma che noi adottiamo essenzialmente per riuscire a prendere un problema di grandi dimensioni e riuscire a scomporre un problema più piccoli che siano più facilmente gestibili e sulla base di questo costruiremo proprio delle tecniche algoritmiche. Quindi partiamo dalla definizione, quando parliamo di ricorsione, quindi parliamo di una funzione ricorsiva, una procedura ricorsiva, un metodo ricorsivo, quello che volete, è qualunque funzione che al proprio interno includa una chiamata alla funzione stessa. Quindi una funzione A che all'interno del codice della funzione A a un certo punto chiama a sua volta la funzione A, direttamente o indirettamente, perché magari la funzione A chiama la funzione B, la funzione B chiama la funzione C, la quale alla fine richiama di nuovo la funzione A di partenza. Quindi è una funzione in qualche modo definita in termini di se stessa. E quindi gli algoritmi ricorsivi che andremo a studiare sono gli algoritmi che si basano per la loro implementazione sulla costruzione di funzioni ricorsive. Quindi si usa questa capacità del linguaggio di programmazione di definire una funzione che può richiamare se stessa, che non è scontato, bisogna un po' capirlo, per poter costruire degli algoritmi che usano questa possibilità. Non troviamo troppo sconforto in questa immagine, in questa vignetta che ho trovato sui social, che un po' sembra un paradosso, nel senso che non è possibile definire una cosa in termini di se stessa, non vai a capo di nulla. In realtà non è così, nel senso che ci sarà sempre un punto di partenza sulla base del quale costruire il castello. Ma noi di definizioni ricorsive in realtà ne conosciamo già tantissime. Pensiamo ad esempio alla definizione di fattoriale, matematicamente, che vi dice che per qualunque numero maggiore di 1, n fattoriale lo possiamo definire come n moltiplicato il fattoriale di n-1. E quindi stiamo dicendo cos'è il fattoriale spiegandolo usando un'espressione che al suo interno contiene il fattoriale stesso. Questo non ci spaventa perché, per due motivi, uno perché c'è un punto d'arrivo. Qui non va avanti all'infinito questa cosa ma si ferma perché per definizione 0 fattoriale vale 1. E quindi per caso se quando n vale 0 la definizione si arresta. L'altra cosa che ci rincuora è il fatto che ogni volta che io applico questa formula di espansione il numero di cui devo fare il fattoriale è più piccolo, si decrementa. Quindi se devo fare 100 fattoriale sarà definito in termini di 99 fattoriale il quale sarà definito in termini di 98 fattoriale, sarà lunga, ci saranno tanti calcoli da fare ma prima o poi arrivo a 0. Perché ogni volta il problema che devo risolvere, cioè il fattoriale che devo calcolare, è un pochino più piccolo. Questa cosa la possiamo traslare tranquillamente in un codice java, dove per calcolare il fattoriale applico la definizione. Se per caso n uguale 0 il fattoriale vale 1, in tutti gli altri casi calcolo il fattoriale di n-1 e una volta che l'ho calcolato prendo il risultato e lo moltiplico per n. Quindi calcolo il fattoriale di n-1 così e poi moltiplico per n il risultato. Questo sarà il risultato del fattoriale di n, cioè quello di n-1 moltiplicato n stesso. Questo non crea nessun problema. Il fatto che sia una funzione ricorsiva lo vediamo dal fatto che all'interno del corpo di edecuzione della funzione c'è una chiamata, questa funzione recursive fattorial, che è la funzione stessa. Siamo sempre noi. Quindi non crea nessun particolare problema. È chiaro che bisogna evitare che ci siano delle chiamate infinite. Cioè che una funzione richiami se stessa, che poi richiama se stessa, che poi richiama se stessa all'infinito. Ovviamente in questo caso il programma non terminerebbe mai, non si concluderebbe mai. Quindi non sarebbe una buona scelta. Quindi bisogna fare molta attenzione alla cosiddetta condizione di terminazione della ricorsione. Ma perché dobbiamo complicarci la vita e farci venire mal di testa in questo modo? Ma perché molti problemi di fatto si prestano naturalmente ad essere impostati in questo modo, essere risolti in questo modo. Sono problemi che sono uguali a se stessi su varie scale e quindi quando prendo un problema lo divido in parti più piccole, beh le parti più piccole somigliano a quella iniziale e quindi perché non ridividere la loro volta e applicare lo stesso metodo. E vedremo che è un metodo abbastanza rapido anche dal punto di vista implementativo, una volta capito bene l'approccio. Di base l'idea è da un lato, dato un problema lo dividiamo in sottoproblemi più piccoli ma dello stesso tipo e a questo punto risolviamo i sottoproblemi che essendo più piccoli saranno più facili da risolvere e se non sono piccoli abbastanza li ridividiamo a loro volta e a un certo punto sarebbe un grado di risolvere problemi piccoli e allora avevamo solamente più il problema, il task, il compito di mettere insieme le soluzioni dei problemi più piccoli per ottenere la soluzione del problema più grande. Quindi un pochino più formalmente l'approccio è quello di dire ho un problema P, divido il problema P in tanti problemi Q, Q1, Q2, Q3, Q4. Quindi divido P in tanti Q dove Q sono più di 1, magari sono ancora complicati ma di sicuro devono essere più semplici di P e devono essere dello stesso tipo, dello stesso tipo di problema. Quindi se devo calcolare che ne so qual è il numero più grande di una serie di 100 numeri lo divido in 4 sottoproblemi ciascuno dei quali a trovare il numero più grande di una serie di 25 numeri. Allora poi risolverò il problema di trovare il massimo di questi 25 numeri, gli altri 25, gli altri 25, gli altri 25 e alla fine avrò 4 elementi che devo mettere insieme per trovare il massimo assoluto in questo caso. Ovviamente per calcolare il massimo non userei mai un approccio ricorsivo ma intanto per dare un'idea della divisione dei problemi. L'importante è che il problema Q più piccolo sia ovviamente più piccolo ma anche dello stesso tipo del problema P perché questo mi permette di riapplicare a ciascuno dei Q lo stesso principio e quindi questo Q1 lo divido alla sua volta in Q1, Q1, 2, Q1, Q3 e così via. Questi Q ovviamente devo essere in grado di risolverli e quindi li risolverò o di nuovo spezzandoli ricorsivamente oppure risolvendoli per altro metodo se sono abbastanza piccoli, che ne so, se ho un numero solo lui è il massimo di se stesso, se ho due numeri soli basta confrontarli. Quindi quando i problemi diventano sufficientemente piccoli spesso la loro soluzione è banale, auto-evidente e quindi alla fine fonderemo, rimetteremo insieme le soluzioni che abbiamo trovato. L'importante è che questa operazione di divisione e ricongiunzione, quindi dividere problemi e ricongiungere soluzioni, siano sufficientemente semplici, rapidi, veloci, che non perdiamo troppo tempo a fare questa operazione, altrimenti il tempo di esecuzione tenderebbe ad aumentare. Questo, se vogliamo, è un approccio che permette di esplorare, non lo usiamo sia in termini di ricerca che in termini di ottimizzazione, in generale di esplorare uno spazio di tante possibili soluzioni. Quindi se io devo trovare, che ne so, quale sia la combinazione migliore di un insieme di fattori, che ne so, troviamo il giorno migliore in cui fare un incontro tenendo conto degli impegni delle varie persone. E quindi ho tante possibili combinazioni, questo giorno va bene a te, ho i due, ma non va bene all'altro, eccetera, e bisogna provare tutte le possibili combinazioni per vedere qual è la soluzione migliore. Quindi ci serve un meccanismo sistematico per generare tante alternative possibili, tra cui poi scegliere quella migliore. Generare tante alternative possibili dipende dalla natura del problema, a volte molto spesso si tratta di impostare in modo combinatorio la risoluzione del problema. Quindi vuol dire lavorare sui possibili sottoinsiemi di un insieme dato, quindi lavorare sulle partizioni, oppure lavorare sui percorsi, in che ordine faccio una certa sequenza di operazioni, oppure lavorare sulle permutazioni, cioè un certo insieme di elementi che vanno scambiati di posto, eccetera. Cioè tutto quello che è l'analisi combinatoria, in qualche modo ce la ritroviamo come forma mentis che ci aiuta a decomporre un problema. Se riusciamo a ricondurre un problema in termini combinatori, molto spesso abbiamo già fatto il primo passo per poter, diciamo così, impostare un algoritmo ricorsivo che lo possa risolvere. Questo lo apprezzeremo ovviamente, come dicevo prima, facendo molti esempi. Allora, lo scheletro di un algoritmo ricorsivo è relativamente semplice, cioè cerca di applicare il problema di prima. Ad esempio, io voglio risolvere un certo problema e definisco una funzione solve, genericamente, che dato il problema mi dia la soluzione. Ok, questa funzione la posso impostare in modo ricorsivo. Allora, cosa faccio? Dato un problema, prendo il problema, lo divido in una lista di un elenco di tanti sottoproblemi. Poi, e quindi questa divisione dipenderà ovviamente da che tipo di problema sto cercando di risolvere, quindi qui ho un identificativo generico, dividi il problema, ma poi ogni volta dovrò chiedermi come faccio a dividerlo. Poi a questo punto ho tanti sottoproblemi, ne prendo uno per volta, per ciascun sottoproblema iesimo, risolvo il sottoproblema iesimo chiamando la stessa funzione, quindi qui c'è la chiamata ricorsiva in atto. Questa chiamata ricorsiva, per ora non pensiamoci, fidiamoci del fatto che questa ci calcola una soluzione. Allora, se questa chiamata ricorsiva mi calcola una sottosoluzione al mio sottoproblema, ripeto questa operazione per tutti i miei sottoproblemi. E una volta che avrò tutte le sottosoluzioni le combino per ottenere la soluzione complessiva al mio problema di partenza. Allora, messa così forse capiamo che non finisce mai questa operazione, perché la funzione chiama se stessa, chi chiama se stessa, chi chiama se stessa, alla fine non capiamo come faccia a risolvere. Però noi dobbiamo imparare a ragionare per livelli, per fette. Io sono in un certo livello della ricorsione, livello più alto, la funzione solve, e chiamo sotto di me una funzione che lei mi dice essere in grado di risolvere i sottoproblemi. Allora, se io mi fido che lei sappia risolvere i sottoproblemi, allora io prometto di saper risolvere il mio. Ma analogamente la funzione di secondo livello promette di saper risolvere un sottoproblema, ma si fida del fatto che la funzione sotto di lei sappia risolvere i sottoproblemi. E' analogamente la funzione al terzo livello che promette di saper risolvere i sottoproblemi, ma si fida del fatto che la funzione chiamata al quarto livello sappia risolvere i sottoproblemi, e così via. Noi lavoriamo pensando proprio di lavorare in un livello e noi dobbiamo mantenere una promessa, cioè promettiamo di risolvere un problema se in cambio gli altri, quelli che sono sotto di noi, promettono di risolvere il loro sottoproblema. Se impariamo a ragionare in questo modo, alla fine il problema, come vedremo, si risolve facilmente. L'algoritmo riesce a risolvere il problema. Ovviamente il problema originario, che era uno, l'abbiamo diviso in un certo numero di sottoproblemi. Ciascuno di questi problemi sarà più piccolo di un certo fattore rispetto al problema iniziale. Questi due valori, A e B, li riprenderemo quando cercheremo di capire l'efficienza di questo approccio. Se A è maggiore di B, se A è minore di B, il tempo di esecuzione chiaramente cambierà molto. Però questo dipende un po' dall'approccio che riusciamo a dare al problema, dalla capacità che abbiamo di riuscire a decomporlo in modo efficiente. Su questo ci torneremo più avanti. Per ora proviamo a convincerci che funzioni. Allora, innanzitutto, così come non funziona, lo sappiamo già, perché questa suddivisione andrebbe avanti all'infinito. Non esiste l'infinito in informatica e quindi a un certo punto bisognerà fermarsi. Mi fermo quando? Quando i sotto, 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 sotto problemi sono abbastanza semplici da potersi risolti istantaneamente, banalmente, semplicemente guardandoli in faccia, oppure possono essere risolti con un algoritmo che non implica la ricorsione, perché magari è un problema che so risolvere con due elementi o con tre, ma in generale no. Allora, se il problema è piccolo, lo risolvo con un certo metodo. Se il problema è ampio, invece lo divido ricorsivamente fino a quando non trovo problemi piccoli. Quindi a un certo punto, in ogni funzione ricorsiva, devo sempre definire quella che chiamiamo la condizione di terminazione. C'è un test che si chieda, il problema è abbastanza piccolo? Se sì, lo risolvo in un certo modo, altrimenti faccio la ricorsione. E poi, ovviamente, devo garantire che ogni problema, ogni sotto problema sia più piccolo, strettamente più piccolo, non uguale o minore o uguale, ma minore del problema iniziale, perché altrimenti non ho la garanzia di arrivare alle condizioni di terminazione. Quindi, arricchiamo lo schema della nostra procedura ricorsiva in questo modo. Quando mi danno da risolvere un problema, prima di tirarmi sulle maniche, fare la divisione sotto problemi, la ricorsione, eccetera, eccetera, che è questa parte in giallo, che è identica a quella della slide precedente, mi chiedo, ma per caso il problema è talmente banale che lo posso risolvere in modo banale? Come vi dicevo, se il mio problema è trovare il massimo e mi danno un numero solo, beh, quello è il massimo, fine. Se il mio problema è mettere in ordine alfabetico due elementi, li confronto, allora sono AB oppure BA, fine. Quindi basta semplicemente un'operazione di confronto. Se invece il problema fosse di metterne in ordine 100, allora non è banale, non è triviale risolverlo, allora andremo a decomporre, andiamo a impostare una procedura più complessa. Quindi molto spesso il fatto che il problema sia banale è perché sono problemi o di dimensione 1 o di dimensione 2 o molto spesso anche di dimensione 0, cioè il problema è diviso talmente tanto che non c'è più, non c'è più nessun problema da risolvere. Quindi alla fine questo test sarà quasi di questo tipo qua. La dimensione del problema che mi è rimasto qual è? Se è così piccola, non è nulla da fare. E allora nel caso in cui il problema sia piccolo, come vedete, non faccio la ricorsione. Qui c'è un bel else, manca una parente di graffa, vabbè, non è aperta né chiusa, va bene. C'è un bel else che mi dice che la ricorsione viene fatta solo se il problema non è banale, solo se il problema c'è davvero. Se il problema è banale, restituisco questa soluzione direttamente senza fare più la chiamata ricorsiva. Quindi ogni procedura ricorsiva deve sempre avere una prima parte in cui mi chiedo ho finito? Il problema è così semplice che si risolve da solo? Oppure no? E allora devo andare avanti col meccanismo generale usando quei livelli di promessa e garanzia di cui accennavamo prima. Questa è una tecnica che si può usare anche, come dicevamo, per esplorare degli spazi, delle possibilità. Se io devo esplorare un certo spazio, allora sono in una certa posizione, esploro le possibilità di movimento, per ciascun passo provo a fare il passo, esploro cosa succede dopo che ho fatto il passo e poi faccio un passo indietro per ricominciare a prendere il cammino successivo. Questo schema è di fatto uno schema un pochino più pratico di quello precedente, lo useremo molto spesso. Quando qui diciamo creo le sottosoluzioni, beh molto spesso una sottosoluzione non è altro che la soluzione che ho già più un pezzettino. Allora provo a risolvere la soluzione più un pezzettino, poi all'iterazione successiva di questo ciclo for dovrò provare la stessa soluzione più un altro pezzettino. Quindi di fatto dobbiamo aggiungere un pezzo, provare la ricorsione, esploro la chiamata ricorsiva e poi fare un passo indietro per poter fare il passo successivo in una direzione diversa. Questa si chiama backtrack, cioè l'operazione di rimettere il sottoproblema esattamente nello stato in cui l'avevo trovato per poter provare altre alternative. Questo lo capiremo molto meglio quando vedremo il codice. Allora il concetto base di costione di per sé è un po' astruso ma non è molto lungo, non è molto articolato. La difficoltà che avremo è chiederci ma di fronte a un problema? Qual è l'approccio che dobbiamo avere? Come facciamo a impostare una procedura ricorsiva che sia in grado di affrontare questo problema? Quindi quali sono i suggerimenti di progettazione per un problema ricorsivo? Allora questo io lo strutturo sotto una serie di domande, io mi faccio una serie di domande per impostare un problema ricorsivo. Allora queste domande qui ce le rifaremo ogni volta, le stesse identiche domande ce le rifaremo ogni volta che imposteremo un algoritmo ricorsivo. Quindi come imposto in generale la ricorsione? Cioè che cosa capita da un livello della ricorsione a quello successivo, quello successivo, quello successivo? Cioè in che cosa si semplificano i sottoproblemi rispetto al problema iniziale? Questa è l'idea principale. Che cosa divido? Li divido in gruppi, li prendo n-1 da una parte e uno dall'altra, quindi ne tolgo uno per volta, li divido a metà ogni volta, dipende, dipende ovviamente da che cosa sto facendo. Quindi questa è la prima cosa complessa. E quindi in particolare parlavamo prima di ricorsioni, cioè funzioni che si chiamano l'un l'altra ricorsivamente, e ciascuna sta al livello sottostante rispetto a quella precedente. E quindi questo livello che cosa rappresenta? Cioè man mano che scendo di livello, che cosa cambia? Che cosa sto facendo? Sto cercando un percorso che porti dal punto A al punto B, Google Maps, una mappa. Allora al primo livello, io sono a casa mia, il primo livello della ricorsione sarà il primo incrocio che incontro. Che strada prendo al primo incrocio? o l'alternativa A, B, C, D. A questo punto una volta che ho scelto quale primo incrocio fare, sceglierò il secondo. Allora al secondo livello ci sarà il secondo passo. Quindi in questo senso il numero di livelli diventa, in questo esempio, il numero di frammenti di strada, il numero di segmenti di viaggio che sto facendo. Man mano che va avanti il livello aumenta di 1 il numero di segmenti, che mi distanziano dall'origine e ovviamente diminuiscono di 1 il numero di segmenti che mi distanziano dal punto di arrivo. Quindi devo riuscire a capire, man mano che scendo, la soluzione in questo caso diventa più semplice perché mi avvicino all'arrivo. E quindi la ricorsione è un metodo costruttivo per arrivare a una soluzione. Cioè non è un metodo matematico che mi dice ma la soluzione esiste, basta risolvere queste equazioni. No, ad ogni livello di ricorsione ne risolvo un pezzettino. Ne metto a posto un pezzettino. Quindi di fatto man mano che scendo nella ricorsione, lo vedremo negli esempi, costruisco la soluzione un pezzo per volta. O meglio, costruisco tante ipotesi di soluzione. Poi sarà da vedere se queste ipotesi sono convalidate, se riesco ad arrivare fino in fondo, perché chiaramente anche nel problema delle mappe se prendo la strada sbagliata, io non riuscirò mai ad arrivare al punto d'arrivo e allora la soluzione non la trovo. Non è detto che la trovi, entro il numero massimo di passi o di distanza che posso compiere. Quindi abbiamo un metodo costruttivo. Ogni volta che scendo di un livello sistema una parte del problema e poi dovrò sistemare le altre sottoparti ai livelli successivi. Quindi è una soluzione parziale che via via cresce fino a quando arriva alla soluzione totale. Cioè quando sono al caso terminale della ricorsione ho già tutte le informazioni e quindi quella è una mia soluzione possibile. Dove soluzione è un termine qua ancora molto vago e dovremo ogni volta specificare di cosa stiamo parlando. Quindi il compito che ci diamo è quello di riuscire a generare tutte le possibili soluzioni ad ogni livello. Il fatto, quello che dicevamo, dividere il problemi sotto problemi vuol dire ok io ho fatto questi primi tre passaggi, quali sono le opzioni che ho disponibili per poter fare il quarto passaggio? E questa è una domanda che dobbiamo farci. Ho la soluzione del livello I, devo generare la soluzione del livello I più 1. Qual è il meccanismo per farlo? In che cosa consiste questo meccanismo? E poi come faccio a sapere se una soluzione parziale è una soluzione completa cioè solo in un caso terminale? Qual è la condizione che devo verificare contro gli elementi? Vado a vedere se la somma è maggiore di zero? Che ne so. E poi l'altro problema è come parte la ricorsione. Quindi noi il grosso del pensiero della difficoltà ce l'abbiamo nel livello intermedio cioè come passo da un generico livello I al livello I più 1. E prima risolviamo questo problema perché è quello concettualmente più complesso. Poi ci chiediamo va bene ma quando sono in fondo cosa devo fare? E poi ci chiederemo anche ma quando sono in punta? Cioè la prima chiamata ricorsiva come devono essere preparati i dati, le soluzioni, chiamiamolo così a livello zero, a livello di partenza. Queste tre domande sono i tre momenti diversi della ricorsione. L'avvio, la terminazione e il passo generale ricorsivo. Pensiamoli in quest'ordine. E quindi questo passo generale della ricorsione serve per costruire una soluzione parziale più ricca a partire dal livello I più 1 a partire una soluzione parziale più piccola, più ristretta del livello precedente. Io ovviamente data una soluzione può darsi che questa soluzione non sia valida e quindi non devo più continuare. Oppure magari è valida e posso continuare. Facciamo un esempio, se noi stiamo pensando ai possibili anagrammi, pensiamo di avere delle parole dove vogliamo anagrammare, allora a un certo punto devo chiedermi al livello della ricorsione ogni volta metterò una lettera, quindi la prima lettera dove la metto, la seconda lettera dove la metto, la terza dove la metto, magari arriva un certo punto in cui una lettera non la posso più mettere perché l'ho già usata prima e quindi ci sono alcune mosse, alcune scelte che a un livello non sono più valde perché ho già fatto scelte diverse ai livelli precedenti. Quando ho dei conflitti, quando ho delle incompatibilità, se a un certo livello ho fatto una scelta, tre, quattro livelli più sotto non potrò più fare quella stessa scelta oppure una scelta vincolata a questa. Quindi questo mi dice che la generazione delle soluzioni non è un problema da svolgere alla cieca, semplicemente le genero tutte, le genero tenendo conto di quelli che sono i vincoli del problema che ho a che fare. Quando posso? Quando non posso, quindi ci sono dei casi in cui mi accorgo che una soluzione non è valida solamente quando sarò arrivato alla fine della ricorsione. La guardo e dico no, questa non sta in piedi e allora a questo punto andremo avanti sperando di poter arrivare a una soluzione e se non ci arrivassimo avremmo perso un po' di tempo di elaborazione ma alla fine scarteremo ovviamente una soluzione non valida. Quando ovviamente ho una soluzione completa devo poter dire se è valida o no, ovviamente. Perché ho una soluzione completa e mi dice questo è il problema che voglio risolvere, lo risolve sì oppure no. Questa è una possibile permutazione delle lettere, è un anagramma valido? Sì o no. Questo è un possibile percorso, vado dal punto A al punto B? Sì o no. Quando è completa è facile vedere se risolve il problema o no. Se fosse quando è parziale a volte ci riusciamo, quindi anticipiamo un po' la cosa, a volte invece non si riesce. E quando ho una soluzione completa che sia valida, quindi che mi risolve il problema, io anche qui ho due casistiche. Mi basta trovarne una e allora a questo punto ho trovato la prima soluzione, basta, la salvo, ritorno, esco da tutto, oppure mi serve trovare tutte le soluzioni. Allora trovare tutte le soluzioni significa che ogni volta che ho trovato una soluzione è bene, me la salvo, me la metto da parte, ma poi continuo a cercare. Quindi la procedura ricorsiva andrà comunque ad esplorare l'intero spazio delle soluzioni, anche dopo che ho trovato la prima, la seconda, la terza, le prime diecimila soluzioni, continuerà fino a quando non potrà dirmi, ecco queste sono tutte le soluzioni possibili. Dipende dai problemi, alcune volte mi basta almeno una soluzione, altre volte invece mi servono tutte le soluzioni valide. Ok, da lì poi scendiamo ai livelli diciamo così più concreti del tipo, va bene, noi stiamo parlando di una soluzione parziale, di una soluzione completa, ma come sono fatte queste cose? Quali sono le strutture dati che possiamo usare? Molto spesso saranno delle liste in cui ad ogni livello di ricorsione aggiungo via via un elemento perché sto costruendo un passo per volta la soluzione e quando torno indietro facendo backtracking dalla ricorsione toglierò via via gli elementi che ho messo. Però non è detto che sia sempre così, anziché delle liste sono degli insiemi o delle mappe. Quindi avremo sicuramente da progettare quali sono le strutture dati più adatte per rappresentare un determinato tipo di soluzione parziale o di soluzione completa e poi ci saranno ovviamente dei dati che rappresentano il problema su cui stiamo lavorando e quindi il cosiddetto lo stato della ricerca, del ricorsione, c'è tutto il contesto che mi dice cosa sto facendo, a che punto sono arrivato nella ricerca, quali sono i vincoli che mi dicono se è una soluzione valida oppure no. Queste sono le domande che dovremmo farci. Capisco che così in astratto non abbiano molto senso, ma ricordiamoci le domande perché poi ce le faremo ogni volta che affronteremo un problema. E queste domande si tramutano nello scheletro della procedura ricorsiva. Quindi un argomento ricorsivo generico quasi sempre sarà strutturato in questo modo. Abbiamo una procedura ricorsiva che riceve una certa serie di parametri che descrivono la soluzione parziale e una variabile che possiamo chiamare livello che mi dice a che punto sono nella soluzione. E vedete che la chiamata ricorsiva è qua dentro che dice livello più 1. Cioè ogni volta che chiamo ricorsivamente io sono andato avanti di un passo, sono andato avanti di un livello. Che cosa significa il livello? Beh, ogni problema dipende. Il numero di passi che ho fatto, il numero di lettere che ho sistemato, il numero di appuntamenti che ho incastrato e così via. Ogni volta ne faccio, ad ogni livello della ricorsione, ne sistemo 1. A livello successivo sistemerò gli altri. Questa è la doppia promessa. Ne sistemo 1, quindi prometto di averlo sistemato, che era il mio compito. A livello 7 devo sistemare il settimo elemento e che ovviamente mi fiderò del fatto che dal livello 8 in poi la chiamata ricorsiva di livello 8 faccia sul lavoro sistemi tutti quelli dall'8 in avanti. Ma io non mi preoccupo, è un altro. Sono sempre io, ma in realtà concettualmente è un altro livello algoritmico che se ne deve occupare. Abbiamo una condizione di terminazione che deve esserci sempre. Quindi se condizione di terminazione, e devo chiedermi qual è, il problema è banale, allora risolvi il problema e ritorna ed esce dal programma. Poi genera tutte le soluzioni possibili, quindi avrò un ciclo che genera tutte le possibili soluzioni a partire dalla soluzione parziale, questi tre puntini, e tutte queste nuove soluzioni parziali le devo provare. Poi questo filtro mi indica il fatto che a volte questa soluzione parziale scopro che non è valida o non mi può portare alla soluzione, allora la scarto senza neanche provarla. La genero, la guardo e dico no, tu no, non mi porti verso la soluzione oppure mi porteresti verso una soluzione peggiore di quella che già conosco e quindi non è detto che ti chiami. Questo filtro non è detto che riusciamo sempre a indicarlo. E poi c'è la parte di backtracking, cioè rimetto a posto le cose, perché qui sono dentro un ciclo. Oggi è andata una soluzione, ho fatto delle prove e poi devo rimettere tutto a posto perché all'interazione successiva del ciclo possa provare un'altra soluzione. Quindi questo è tutto un gioco in cui provo, vedo cosa succede e rimetto a posto. Riprovo un'altra alternativa, rivedo cosa succede e rimetto a posto. E cosa succede? Lo vedo, in realtà non lo vedo io, ma lo vedrà la condizione di terminazione 7, 10, 20, 40 chiamate, 40 livelli sotto di me, che a un certo punto vedrà una soluzione completa e dirà questa soluzione va bene oppure no. E poi con questa catena di return ovviamente tornerà da me. Poi ci sono alcune operazioni in realtà che sono da fare sempre, perché magari anche sulle soluzioni parziali, se sono buone devono essere memorizzate. Questo è un pochino lo scheletro. E quindi alla fine noi ABCDE sono le domande che ci dobbiamo fare dal punto di vista pratico, dal punto di vista implementativo. Qual è la condizione di terminazione? A. Qual è il codice per generare la soluzione parziale? B. Qual è il codice di backtracking da svolgere? E così via. Quindi questo è uno schema che vi proponeremo anche nel laboratorio con cui ragionare per impostare il codice. Poi dopo le prime volte vedremo che è sempre la stessa cosa, ma all'inizio ci aiuta sicuramente a ragionare. Sulle ricorsioni si dicono molte cose. Noi trattiamo questo tema sia perché, se vogliamo, concettualmente è importante, ma sia perché vedremo che riusciremo a risolvere con poche righe di codice, problemi che altrimenti sembrano anche molto complicati da impostare. Cioè il vantaggio della ricorsione che vedremo in questo corso è quello di arrivare rapidamente a trovare una soluzione proposta. E allora passiamo adesso a provare a mettere in pratica questi ragionamenti che abbiamo fatto, queste cose che ci siamo detti. E facciamolo affrontando qualche semplice problema. Allora, proviamo a risolvere per primo un esercizio insieme, che è quello ispirato dalle storiche schedine del totocalcio. Non so se qualcuno di voi ricorda ancora quando erano in formato cartaceo e si compilavano a mano, ma sono concorsi settimanali nei quali dovevi indovinare il risultato di una serie di 13 partite di calcio che si giocavano in quella domenica, quando le partite si giocavano tutte lo stesso giorno. Allora, io ho preparato su GitHub un repository che ho caricato già anche qua in Eclipse, però andiamo a prendere repository che dovrebbe essere qua, che ci racconta un po' quali problemi che cerchiamo di risolvere. Noi vogliamo realizzare un programma, quindi partiamo da un problema pratico, no? e proviamo a risolverlo impostando la ricorsione. Realizziamo un programma che acquisisca dall'utente un pronostico relativo alla schedina di un totocalcio e di emette in output l'elenco di risultati compatibili con il pronostico stesso. Cioè, tu fai una previsione, ma questa previsione in realtà ha dei gradi di libertà, ma puoi mettere delle partite doppie o triple. Allora io voglio sapere quali sono tutti i possibili risultati vincenti, dato il pronostico che hai fatto. Quindi, poi lo spiega. Si supponga che la schedina del totocalcio sia composta da 13 partite, diciamo n e con questo n magari all'inizio partiamo con dei valori più piccoli. Ciascuna partita può terminare con il risultato che chiamiamo 1, cioè vince la squadra di casa, oppure con il risultato 2, cioè vince la squadra fuori casa, o con il risultato x nel caso in cui le due squadre pareggino. Quindi il risultato di una partita sarà 1, 2 o x. Il risultato di una intera domenica, di un'intera schedina, potrà essere una stringa o una lista, dipende un po' che strutture dati vorremmo usare, di n caratteri, che possono essere 1, 2 o x. Quindi ad esempio, in una certa domenica le 13 partite hanno avuto questi risultati. 1, 1, 2, cioè la prima partita ha vinto la squadra in casa, la seconda partita ha vinto la squadra in casa, la terza partita ha vinto la squadra fuori casa, cioè il 2, la quarta partita ha vinto la squadra, scusate, hanno pareggiato e così via. Quindi sono 13 caratteri che rappresentano i risultati delle 13 partite. Allora, questo è il risultato. Il giocatore fa un pronostico, un pronostico su quale potrebbe essere il risultato. Nel pronostico il giocatore può specificare più alternative, più risultati possibili, perché magari non è sicuro del risultato. Quindi lui può dire, beh, alla prima partita io do l'1 fisso, cioè sono sicuro che vincerà la squadra in casa. Alla seconda partita dirò, ma non sono sicuro se vince la squadra in casa oppure pareggeranno. Quindi indico 1x. Oppure è una partita particolarmente, diciamo così, difficile da prevedere, metto 1x2 e quindi vuol dire che, boh, o vince la prima squadra, o vince la seconda, oppure pareggiano. In tutti i casi io vinco. Io azzecco il pronostico. E quindi il pronostico è anche lì una serie di previsioni. Ciascuna previsione però non è un solo carattere possibile, ma può essere una sequenza di 1, 2 o 3 caratteri che rappresentano 1, 2, 3 risultati possibili. Cosa significa giocare un pronostico? Significa in pratica avere una forma compatta per giocare una serie di schedine possibili. Quindi immaginiamo di avere l'anno uguale 4, 4 partite e il giocatore ha giocato 2x, poi 1, poi 1x2, poi 1, 2. Questo vuol dire che lui in pratica è come se avesse giocato 12 previsioni diverse che sono date da tutte le combinazioni possibili che si possono ottenere combinando questi elementi. Quindi, ingrandiamo ancora un pochino, eccoci qua. Vuol dire che un risultato possibile è 2, 1, 1, 1. Cioè 2, poi 1, poi 1, poi 1. Un altro risultato possibile è 2, 1, 1, 2. Poi un altro risultato possibile sarà x, 1, 1, 1, quindi prendo questa x, 1, 1, 1. Vuol dire che ovviamente nella prima posizione ci potrà essere o 2 o x e quindi vediamo dei casi in cui c'è il 2 e dei casi in cui c'è la x. Nella seconda posizione ci sarà sempre solamente 1, infatti nella seconda colonna c'è sempre solamente 1. Nella terza posizione ci può essere 1x2 e quindi ci sono dei casi in cui vedo la 1, in casi in cui vedo la x e i casi in cui vedo il 2. Qui dovrebbe essere un 2, è sbagliato il testo. E poi nel quarta posizione può esserci 1, 2. Vedete, 1, 2 alternati. Lo scopo del programma è quello di prendere in ingresso questo pronostico e stampare in uscita l'elenco dei risultati possibili che sono implicati all'interno di quel pronostico, che sono contenuti all'interno di quel pronostico. Questo è il nostro problema ricorsivo. Data un pronostico sputa fuori l'elenco di tutti i risultati possibili. Come facciamo a farlo? Beh, innanzitutto dobbiamo ragionare un po' su come rappresentare i dati di questo problema. Quindi per ora non parliamo ancora di ricorsione, parliamo solamente di rappresentare i dati. Allora io per abbreviare i tempi ho già definito quattro classi che ci permettono di rappresentare i vari elementi che ci sono in gioco. Nel senso che noi parliamo sia di risultati che di pronostici. Risultato partita è una classe che rappresenta un singolo risultato. Quindi una classe che può valere 1, 2 o x di una singola partita. Il risultato per me è il risultato di un'intera giornata di partite. Quindi contiene una sequenza di n risultati partita. Quindi è una sequenza, una lista di n risultati. Quindi il risultato sarebbe questo. Risultato, scusate, il risultato partita, perché è il risultato di una singola partita. Risultato come classe invece è l'intera sequenza di quattro partite, di n partite. La stessa cosa la faccio con pronostico. Io ho una classe pronostico partita che mi rappresenta il pronostico di una singola partita e quindi questo, per capirci, oppure questo, quindi un singolo risultato, lo chiamo pronostico partita, perché è il pronostico di una sola partita. Mentre invece pronostico è la classe che conterrà tutta la sequenza dei pronostico partita delle n partite che sono giocate. Pronostico partita l'ho definito come insieme, un set, perché contiene 0, 1, 2 o 3 elementi presi da quei valori concessi dal risultato partita. È un set, non è una lista, perché 1 non importa l'ordine, quindi dire 1, 2 o dire 2, 1 è la stessa cosa, e il secondo non possono essere ripetuti, quindi non posso dare un pronostico del tipo 1, 1, non ha senso. Quindi è più adatto un insieme che da una lista per rappresentare questo tipo di operazione, questo tipo di dato. Allora queste cose qua le ho già tradotte in Java, qui c'è riassunto il diagramma delle classi corrispondente, quindi una classe risultato partita, una classe risultato per la parte dei risultati, poi per la parte dei pronostici ho un pronostico partita che è un insieme di risultato partita, insieme di risultati, e il pronostico che è una lista di pronostico partita. Queste quattro classi sono legate in questo modo, che possiamo vedere, avete già su GitHub il progetto base e che sono già implementati in questo progetto base. Fatemi fare una piccola parentesi su questo progetto, risultato partita poiché può contenere solamente tre valori, l'ho implementato non come classe ma come enumerazione, come enum. Le enum in Java sono delle classi particolari che sono pensate apposta per contenere un insieme definito di valori e quindi possono contenere solamente quei valori lì. Avrei potuto scegliere un intero che contiene valori 1, 2, 3 ma poi ci sarebbe stata confusione. Nel codice invece il risultato partita è una classe il cui valori possono solo essere 1 o 2 o x e questi sono degli identificatori che indichiamo e potremmo usare nel codice in questo modo. Questa è una classe particolare, non ha bisogno di un costruttore, non si può definire un costruttore, però possiamo definire dei metodi, ad esempio il metodo toString che permette di dire guarda che quando il valore di questa classe è 1, la costante 1, questi sono costanti che stiamo definendo, rappresentano come una stringa con la 1. Ovviamente la classe, l'enumerazione ha già un metodo toString predefinito però stamperebbe 1 in parole e 2 in parole, cioè ritornerebbe una stringa che corrisponde al nome dell'identificatore, per virgolette, è un po' brutta da vedere e quindi ridefinisco toString al mio uso e consumo, così come ha un metodo valueof che prende una stringa, come parametro una stringa e che se questa stringa corrisponde a 1 mi restituisce un risultato partita 1, se la stringa corrisponde a 2, scritto come due, mi restituisce un risultato partita la costante 2 e così via. A noi fa comodo che possiamo creare un risultato partita non partendo da 1 come stringa ma partendo da 1 scritto così, in numero, o dalla x scritta così e quindi ho ridefinito anche qua il metodo valueof che serve per creare un nuovo risultato partita partendo da un altro tipo di dato, in questo caso da un singolo carattere. Quindi ho ridefinito i metodi per leggere e scrivere essenzialmente questi risultati partita per poterli visualizzare essenzialmente. In tutti gli altri casi non ci interessa questa rappresentazione sotto forma di stringa. Un risultato che cos'è? Un risultato non è altro che una array list di risultato partita, quindi la classe risultato che avevamo messo qui è un array list di risultato partita, con un array list di elementi ciascuno dei quali può essere 0, 1, x. Qui ho un costruttore che lo costruisce appartenendo da una stringa, quindi quella stringa che abbiamo visto prima data questa stringa, il costruttore della classe risultato mi costruisce esattamente l'array list in cui ciascun elemento è un oggetto di tipo risultato partita. Ho preferito lavorare con oggetti anziché con stringhe, come sempre. Poi il toString lo mostra, non c'è nulla di particolare. E poi abbiamo la classe pronostico partita, il pronostico partita è questa qui, abbiamo detto che è quella che contiene un insieme 1, 1, x, 1, 2, x. Un pronostico partita contiene un insieme, un set di risultato partita. Quindi è una set che contiene un insieme di risultati, quindi questi risultati sono i risultati possibili di quel pronostico di quella singola partita. E poi vabbè ci sono i soliti metodi, toString, il costruttore, eccetera eccetera, non nulla di particolare. E alla fine la classe più alta è questa pronostico che non è altro che una lista, una lista di pronostico partita, con i suoi metodi di accesso nulla di particolare. Qui ci sono alcuni metodi che poi vedremo, che magari ci torneranno utili. Ok. A questo punto proviamo a risolvere il problema. Magari ci creiamo una piccola classe di test per poter definire un problema, magari quello che è già proposto nel testo delle slide e poi proviamo a risolvere e vedere se la soluzione è quella corretta. Allora per fare la soluzione passiamo in un branch diverso che chiamiamo soluzione, così non si mescolano il progetto base con la soluzione proposta. Allora per fare questo, io sto lavorando dentro un package che ho chiamato model, come sempre dove ho la parte algoritmica, mi creerò due classi, una chiamiamola test semplicemente, test ricerca, che avrà il suo main e un'altra classe che chiamerò invece ricerca, che è quella all'interno della quale implemento l'algoritmo di ricerca, di ricerca di tutte le soluzioni. Quindi parto dal test, io che cosa voglio fare nel mio menu? Io voglio provare a partire da un pronostico, partiamo da questo, scusatemi, questo qua, mettiamolo come commento, facciamo finta che sia questo, questo qua che c'era qua sotto. Allora supponiamo che dato un pronostico pari a questo, troviamo tutti i risultati corrispondenti. Quindi a un certo punto dobbiamo creare un oggetto pronostico, e una volta creato l'oggetto pronostico chiameremo una funzione che implementeremo nella classe ricerca che ci trova tutte le soluzioni. Allora per creare un oggetto pronostico usiamo gli oggetti che abbiamo definito prima, uguale new pronostico, questo è un costruttore nullo, perché poi devo aggiungere uno a uno i vari pronostici partita. Quindi pronostico punto add, new pronostico partita, giocata è 2x. Poi aggiungerò un altro pronostico partita la cui giocata è 1, poi aggiungerò un altro in cui è 1x2, un altro ancora in cui è 1, 2. Vediamo un attimo cosa abbiamo fatto. Quindi vi ho risparmiato la costruzione di tutti questi singoli oggetti, quindi li sto direttamente usando per creare questa struttura dati. Quindi facendo un run mi stamperà x2, 1, x1, 2, 1, 2, che è ciò che volevamo trovare, 2x, 1, 1, x2, quindi gli elementi sono giusti, ovviamente avendoli memorizzati sotto forma di insieme, di set, quando li stampo non è detto che li stampi nello stesso ordine in cui li avevo inseriti, ma questa è una caratteristica normale degli insiemi, quindi non devo preoccuparmi. L'importante è che i valori siano quelli corretti. A questo punto ho il pronostico definito e mi piacerebbe chiamare la mia funzione di ricerca, quindi ricerca, ricerca r uguale new ricerca e mi piacerebbe dire che io voglio avere una lista di soluzioni, quindi list di risultato, risultati uguale r.cerca pronostico e poi posso stampare questa lista di risultati. Questo è ciò che voglio fare, ho creato un pronostico e voglio delegare alla classe ricerca la ricerca di tutti i risultati compatibili, quindi questo è il metodo che voglio implementare. Ovviamente non c'è, però la mia classe di test è questa, quindi andremo a implementare questo metodo cerca, che si baserà sulla ricorsione, quindi faccio creare questo metodo all'interno della classe ricerca, un metodo pubblico che dato un pronostico deve istituire una lista di risultati. Cominciamo a lavorare qua dentro. Come facciamo a trovare i vari risultati? Quindi facciamo un apparente di ragionamento, cerchiamo di ragionare su che cosa vogliamo ottenere. Allora noi abbiamo questo pronostico e da questo pronostico dobbiamo dire come ottengo i risultati. Un risultato possibile è 2, 1, 1, 1. Poi 2, 1, 1, 2. Poi rimetto 1 qua e metto x qua e così via. Tutte le combinazioni possibili sono lecite. Come faccio a costruirle però pensando ricorsivamente? Allora pensando ricorsivamente io divido il problema in due problemi qua, in due sottoproblemi qua. Allora il mio sottoproblema viene diviso così. Ricopio questo e dico lo divido, mannaggia al cursore, così. In un array, un sottoproblema 2x e un sottoproblema tutto il resto. Quindi al primo livello di ricorsione dirò risolvimi questo sottoproblema. 2x vuol dire o 2 o x. Poi al livello successivo della ricorsione gli passerò questo sottoproblema. Quando io sono al primo livello di ricorsione vedo solo questo e gli altri non li vedo, non li guardo, non mi interessa, è il resto del lavoro. Poi a un certo punto ci sarà la procedura ricorsiva che riceverà questo problema. E lei cosa dirà? Ah va bene, mi hai dato questo problema. Io lo so come dividerlo. Io so come dividerlo e lo divido così. Lo divido con l'1 da una parte e poi un altro sottoproblema da risolvere che sarà questo. E quindi questo sottoproblema che risolvo io è il livello 1. Questo lo chiamo livello 0 perché è la posizione 0 del vettore. Questo lo chiamo livello 1 perché si occupa di definire la posizione 1 del vettore che è la seconda e così via. E lui avrà un compito molto semplice perché ha un valore fisso, metterà quello e andrà avanti. E così via. Quindi ogni livello della ricorsione si deve occupare di decidere che cosa ci sta in una determinata posizione del risultato. Quindi a livello 1 dirò cosa ci sta qui? Ci può stare un 2, ci può stare una x. Allora io proverò a mettere il 2 e proverò a mettere una x. Le provo tutte le possibilità. A livello 1 della ricorsione, quindi magari ho messo un 2, a livello 1 della ricorsione c'è già un 2 e mi chiedo cosa ci sta qui? Eh, ci sta un 1. Per forza. A livello 3 della ricorsione mi chiedo ok, l'hanno già messo un 2, hanno già messo un 1. Cosa ci sta qui? Beh, ci può stare un 1, un x e un 2. E ogni volta che dico ci può stare un 1, un x e un 2 vuol dire che farò tre chiamate ricorsive. Uno in cui provo a vedere cosa succede se metto 1, un altro in cui provo a vedere cosa succede se metto x e un altro ancora in cui provo a vedere cosa succede se metto 2. E vado avanti così. Quindi magari provo a mettere x. al quarto livello di ricorsione mi chiederò che cosa devo mettere qua? Un 1 o un 2? Anche qua provo a mettere 1, provo a mettere 2. Provo a mettere 2. E poi rimane ancora un quinto livello di ricorsione in cui praticamente il problema non esiste. E allora questo è il caso terminale. Cioè, ho già 4 posizioni messe, hanno provato i livelli superiori al mio, hanno provato a mettere queste ipotesi di soluzione e a me non rimane più nulla da fare che non prendere questo valore e salvarlo e farlo vedere. Questo è un po', ho provato a riassumervi il ragionamento che mi farei. Questo vuol dire, rispondendo alle domande, che cosa indica il livello della ricorsione? Che il livello della ricorsione indica il numero di partite che sto considerando. Se il livello, le partite da 0 al livello meno 1, sono già state decise. la partita di indice livello la devo decidere io. Le partite da livello più 1 in poi le decideranno le procedure ricorsive sottostanti. E quindi una soluzione parziale è un insieme di partite, abbiamo chiamato risultato partita, lungo di lunghezza pari al livello. Quindi quando entro a livello 0, avrò 0 soluzioni. Cioè, il signore qua dentro, che si è trovato il punto interrogativo qua, che soluzione parziale ha finora? Niente, non c'è ancora nulla. A livello 0 non ho niente, ho 0 partite. A livello 1 avrò già messo il 2, quindi a livello 1 ci sarà già una soluzione parziale che comprende una partita sola e il compito del livello 1 sarà quello di definire la seconda. E così via. E la soluzione totale invece è quella in cui ho già gli n risultati. La condizione di terminazione quindi è quella in cui il livello è uguale a n. Cioè, ho riempito, mi chiedevi n risultati? A livello n, ho appena detto che ho, se il livello è uguale a n, ho un insieme di risultati partita di lunghezza pari a n, e quindi quella è una soluzione totale. La soluzione totale è quando il livello è esattamente n, che è ciò che mi avevi chiesto. Mi rimane la generazione delle nuove soluzioni a livello n, a un certo livello del livello. E questo lo farò provando tutti i pronostici definiti per quel livello. Questo grosso modo è l'impostazione, il tipo di ragionamento, il tipo di schema che ci faremo per ogni procedura ricorsiva. Quindi questa funzione cerca, che è una funzione pubblica, non è ancora lei che fa la ricorsione. Perché lei riceve una cosa del pronostico, il livello non sa che cos'è, la soluzione parziale non sa che cos'è, e quindi diciamo una funzione di interfaccia verso l'esterno. Noi la vera ricorsione la faremo in una funzione privata, tipicamente void, ricorsiva. Questa funzione ricorsiva, che è quella che fa il grosso del lavoro, cosa riceve? Riceve una soluzione parziale e riceve il livello. Come minimo, poi potrà, quando diventa il problema più complesso, ovviamente ci saranno delle cose in più. ce le dice, io al livello 3, hai già una soluzione parziale che contiene già 3 elementi e tu devi mettere il quarto. Sì. Il quarto c'è quello di indice 3 nella lista. Quindi ogni livello di ricorsione deve conoscere già la soluzione che è stata costruita fino a quel momento, sapere a che punto è, in modo da poter andare avanti. La soluzione parziale che cos'è? Ebbè, è una lista di, l'abbiamo scritto qua, un insieme, anzi non è un insieme, è un elenco, una lista, una sequenza, di risultato partita. Quindi noi la possiamo definire semplicemente come lista di risultato partita. e il livello è un numero intero. Allora, questo è il compito che mi è stato dato. Guarda, hanno già deciso le prime tre partite, tu decidi la quarta. Questo è ciò che dice questa signatura di questo metodo. Allora, per decidere la quarta, innanzitutto io devo chiedere, se sono nel caso terminale lo metto fuori, sopra il commento, scusate. Caso terminale allora faccio certe cose, altrimenti sono nel caso generale. Quindi non sono ancora arrivato al caso terminale. Come riconosco se sono nel caso terminale? Beh, per riconoscere se sono nel caso terminale devo sapere se il livello è uguale a n. Cos'è n? N è la lunghezza del pronostico. Allora, vuol dire che questa procedura ricorsiva in qualche modo deve conoscere ovviamente la variabile pronostico. Come faccio a conoscerla? Beh, potrei passarla come parametro però immaginate che è una procedura che chiama se stessa tante volte avere troppi parametri può essere pesante. Quindi la cosa forse più comoda è quella di creare delle variabili di classe, delle variabili private private pronostico pronostico private int n che o nel costruttore di ricerca o semplicemente nel metodo cerca andiamo a inizializzare dis.pronostico uguale pronostico e dis.n uguale pronostico se non sbaglio ho messo un metodo size proprio per dirmi quanti elementi ci fossero qua dentro. E quindi in questo caso questa n che serve la procedura ricorsiva per capire se è nel caso terminale è stata messa da parte dalla procedura chiamante. Lo scopo di questa procedura chiamante è quella proprio di creare l'ambiente con tutte le variabili pronte, con tutti i sottodati pronte perché la procedura ricorsiva possa poi lavorare bene, possa poi lavorare al meglio. Ok. Se sono a questo livello facciamo una cosa più semplice che possiamo fare system.out .println di che coro? Di parziale. vuol dire che la soluzione parziale in realtà è una soluzione totale. Quindi questa soluzione parziale è una soluzione completa. Poi la dobbiamo restituire al chiamante. Per ora la stampiamo to do restituire al chiamante. Ci pensiamo dopo. E questo è il caso terminale cioè ci sono tolte dei piedi più o meno a parte il to do da fare. Nel caso generale nel caso generale io sono ricordiamoci che io ho una lista di partite che è già stata decisa. Quindi la parziale contiene gli elementi da 0 a livello meno 1. Già decisi. Poi ci sono io che ho l'elemento livello e poi ci saranno tutti gli elementi da livello più 1 in poi. I primi non li devo guardare perché sono già decisi. Gli ultimi non li devo guardare perché ci penserà qualcun altro e io devo fare infatti i miei e guardare solamente il mio. Attenzione. se il livello vale 3 io sono nel quarto elemento nella quarta partita perché il livello parte da 0. Ricordiamoci il livello parte ovviamente da 0. E quindi quando il livello vale 0 questa parte non c'è e io devo mettere devo definire chi gioca nella partita 0 cioè la prima partita. Non confondiamo. Attenzione che il numero di elementi è sempre gli elementi del livello 4 sono quelli che vanno da 0 a 3 e io devo decidere il 4. l'elemento di indice è 4 cioè il quinto. Non perdiamoci in queste finezze sugli indici. Ok. Devo preoccuparmi di quel livello. Allora, quali sono i valori qual è il pronostico di cui mi devo occupare? Il pronostico di cui mi devo occupare è pronostico partita che mi interessa è pronostico PP chiamiamolo pronostico partita è il pronostico nella posizione livello dis.pronostico get livello Quindi la prima volta che questa procedura viene chiamata a livello 0 farà pronostico.get di 0 cioè mi dà questo 2x Giustamente al primo livello della ricorsione devo decidere se mettere 2 o mettere x dove nella posizione 0 della quindi nella prima posizione quella di indice 0 della soluzione parziale oppure magari ci devo mettere x quindi queste sono le alternative possibili quindi questi qua PP sono i sottoproblemi da provare il sottoproblema in cui il risultato comincia con 2 e il sottoproblema in cui il risultato comincia con x e allora li proviamo proviamoli tutti for pronostico pronostico scusate no risultato partita ris 2 punti PP punto get risultati allora ricordiamoci che PP è un insieme di risultati 2 e x quindi dovrò iterare su 2 che è un risultato partita la prima volta e x che è un risultato partita la seconda volta e quindi iterò su get risultati è un set sugli elementi di quel set questi elementi sono ciascuno un risultato partita fatto questo quindi provo a mettere ris nella posizione livello questo lo faccio semplicemente perché la mia soluzione parziale della soluzione parziale lo faccio facilmente perché la mia soluzione parziale contiene già livello meno uno elementi anzi livello elementi da zero a livello meno uno nel primo livello quando livello è uguale a zero dovrò mettere il primo elemento perché la lista è vuota nasce vuota deve nascere vuota con zero elementi se livello zero deve avere zero elementi e io devo mettere il primo elemento nella posizione zero e quindi dovrò aggiungere il primo elemento parziale punto add di riso quindi ho provato a mettere il primo risultato possibile nella prima posizione della soluzione parziale ho risolto il mio problema adesso da qui in poi dovranno gli altri mettere i livelli successivi quindi dovrò dire ricorsiva parziale livello più uno cioè prendi questa soluzione parziale a cui io ho aggiunto il mio pezzo spostati a livello successivo e quindi se io ho messo la partita in posizione zero tu occupati di mettere la partita nella posizione uno se io ho messo la partita nella posizione sette occupati di mettere la partita nella posizione otto e va avanti così l'altra cosa che dobbiamo fare però è dopo che quindi questa qua è la costruzione della soluzione parziale costruzione soluzione parziale cioè sotto problema poi abbiamo la chiamata ricorsiva e subito dopo ci vuole backtracking backtracking vuol dire rimettere le cose a posto perché qui sono dentro un ciclo for ho messo una soluzione ma nessuno mi dice che sarà quella giusta e quindi l'ho messa proviamo a vedere cosa succede e poi la tolgo per rimettere le cose a posto per far sì che all'iterazione for successiva io possa fare di nuovo add della x la prima volta ho provato a mettere 2 la seconda volta proverò a mettere x ma quando metto x il 2 devo averlo tolto e quindi avrò un parziale punto remove visto che lo sto costruendo in ordine questo array potrò rimuovere semplicemente l'ultimo elemento quindi parziale punto size meno 1 l'ultimo che ho messo lo tolgo fine trovo quali sono le alternative le prendo uno per volta ne prendo uno per volta provo a metterla vedo quali sono le conseguenze di aver fatto questa scelta nel costruire sotto problema rimetto le cose a posto e continuo a iterare quando questo for finisce di aver provato le due possibilità la funzione finisce esce non ha più nulla da fare non ha più nulla da fare cioè tornerà al livello precedente al livello meno 1 e così via fino a quando tornerà al caso di partenza allora a questo punto ci sembra che questa procedura sia completa proviamo a chiamarla per chiamarla devo chiamarla con un sottoproblema iniziale che coincide col problema intero quindi dovrò creare una lista di risultato partita su cui lei possa lavorare parziale chiamiamo ancora uguale new array list crea una lista vuota esistente ma vuota con 0 elementi e livello uguale 0 e quindi lancio la ricorsione passandole la soluzione parziale e livello cioè 0 in questo caso si arrabbia perché io ho promesso di restituire una lista la lista delle soluzioni trovate non ce l'ho ancora quindi per momento scusatemi ma ritorno solamente a null è collegato al to do di prima lo sistemiamo dopo che siamo convinti che questo funzioni proviamo a eseguirlo abbiamo scritto non abbiamo scritto tantissimo codice se andate a vedere dalla riga 27 alla riga 50 abbiamo scritto 25 righe di codice molto molto dense io ogni volta che scrivo codice ricorsivo mi stupisco che questo sappia risolvere il problema perché sembra che da nessuna parte il problema venga effettivamente risolto il cuore è qua dove analizzo livello per livello quali sono le opzioni possibili questo invece è tutta l'infrastruttura che mi serve per passare da un livello a quello successivo questo è facile sarà quasi sempre uguale ogni volta però cambia il modo in cui decido come fare approvare i sottoproblemi per vedere se funziona lanciamo il test probabilmente non funzionerà la prima volta oppure sì non lo sappiamo 8 guardi allora il pronostico era x2 1 x1 2 1 2 e queste sono le soluzioni questa ricordiamocelo che questo codice è stato stampato direttamente nella procedura ricorsiva apriamo la console così riusciamo a vederle entrambi contemporaneamente è stato scritto direttamente nella procedura ricorsiva qua nel caso terminale questo system.out mi stampa questi valori e quindi mi stampa effettivamente 6 soluzioni in cui il primo elemento è x e il secondo è sempre 1 poi 2 soluzioni in cui il terzo elemento è x e una soluzione in cui il quarto elemento è prima 1 poi 2 poi passiamo 1 sul terzo elemento 1 2 passiamo 2 sul terzo elemento e 1 2 sul quarto e così via e quindi direi che ci sono esattamente le 12 soluzioni che volevamo quindi siamo riusciti a generare tutte queste 12 soluzioni e guardiamo come le stiamo generando lui ha scelto x e poi ha visto che c'erano tante possibilità diverse avendo fissato quella x quindi una volta fissato il primo elemento lui esplora tutte le altre combinazioni compatibili con la prima scelta che ha fatto le prova tutte quando ha finito di provare tutte cambia la prima scelta e va a vedere le conseguenze del nuovo valore e qui analogamente quando ho questa x ho messo x provo 1 e provo 2 quando ho provato tutte le scelte a livello successivo provo a cambiare questa x questo è il backtracking in quel ciclo foro ho messo x vado a vedere cosa succede sotto poi tolgo la x e metto un 1 al suo posto perché faccio il tentativo successivo provo tutte le conseguenze che sono 1 e 2 e poi di nuovo ho un'altra alternativa da provare sì il 2 allora tolgo l'1 metto il 2 nella terza posizione e provo tutte le conseguenze di aver messo il 2 poi ho altre cose da fare qui dopo l'x dopo l'1 dopo il 2 no non ho più nulla da fare allora torno indietro torno indietro perché qui non ho altro da fare sull'1 tornerò ancora indietro sul 2 e a questo punto tolgo la x e rimetto il 2 e da qua riparte tutta l'albero di chiamate ricorsive quindi una cosa che poi potremmo provare a fare con calma è provare a disegnare su un foglio di carta su un foglio di carta che cosa succede con queste varie chiamate ricorsive qual è la variabile parziale qual è la variabile di livello questo magari lo facciamo la lezione prossima per non allungare troppo questa lezione e quindi abbiamo risolto il problema l'unico dettaglio è che io devo restituire al chiamante una lista di risultati guarda ma questo è facile io questa lista me la faccio da qualche parte private private deve essere una lista di risultato va bene risultato che è la soluzione questa soluzione la inizializzo qua quindi all'inizio partita la inizializzo list punto soluzione uguale new array list di risultato ok è aperta questa tonda e quindi inizializzo una soluzione vuota per ora non conosco nessuna soluzione quando sono dentro il caso terminale anziché stampare anziché stamparla la aggiungo alla lista delle soluzioni dis punto soluzione punto add parziale in realtà non funziona così perché parziale è una lista di risultato partita mentre soluzione è una lista è un risultato vuole vuole un oggetto di tipo risultato l'oggetto di tipo risultato ha un costruttore che parte da una stringa quindi potremmo aggiungere un costruttore a risultato che parta anche da una lista di risultato partita perché noi abbiamo già questa lista e facciamo la stessa cosa il costruttore parte dalla release già definita quindi i risultati punto add all lista devo farlo nel costruttore di risultato perché io non ho accesso diretto a questa lista è solamente un problema adesso dovrebbe piacergli di più lista di risultato partita cosa mi dice il metodo add di risultato lista di risultato non è applicabile con la lista di risultato partita perché no? scusate risultato lista di risultato partita un metodo un costruttore ah ok scusate un costruttore mi serve l'oggetto new risultato a partire da questa lista parziale ok quindi aggiungo questa lista di risoluzioni che è una lista di oggetti risultato un nuovo oggetto risultato che ottengo prendendo la lista parziale e questa la parziale che a questo punto è arrivata a livello n quindi è una di queste che ho stampato le abbiamo già viste queste soluzioni questa soluzione torno nel metodo cerca che è il metodo di più alto livello anziché ritornare null ritornerò dis.soluzione che è un array list ricordiamoci che l'abbiamo creato vuoto qua ma la procedura ricorsiva ce l'ha riempito ogni volta che trovavo una soluzione terminale allora a questo punto il nostro test anziché stamparci null al fondo per dire guarda che non ho mai restituito nulla perché queste erano solamente le print interne della procedura ricorsiva che adesso ho tolto questo mi stamperà x1 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 x2 no questi qui sono sbagliati direi no non sono sbagliati sono semplicemente in un ordine diverso probabilmente perché c'era la x1 x1 sì poi c'è x1 x2 sì x1 x1 sì sì sono corretti semplicemente sono saltati fuori in un ordine diverso rispetto a prima perché qui c'è x2 prima se non sbaglio avevamo 2x è normale perché appunto avendo dei set l'ordine può saltare fuori diverso ma l'importante è che siano sempre gli stessi valori 2 1 2 2 ce l'abbiamo anche qua come avevamo prima quindi in questo caso abbiamo l'elenco di risultati disponibile al programma chiamante questo elenco è appunto è stato calcolato dalla procedura ricerca rivediamo solo velocemente la soluzione che abbiamo ottenuto abbiamo una funzione di interfaccia che permette all'esterno di chiamare l'algoritmo di ricerca questa funzione è un'interfaccia molto semplice dammi il problema ti do la soluzione internamente cosa fa questo metodo prepara l'ambiente in cui la procedura ricorsiva lavorerà quindi prepara le strutture dati dove prendere i dati di partenza dove prendere la soluzione parziale dove scrivere la soluzione completa risultante eccetera eccetera poi passa la palla alla procedura ricorsiva tipicamente a livello 0 la procedura ricorsiva fa tutto il lavoro e poi quindi quando esce io mi trovo già la soluzione pronta questo mi serve perché chiamare la procedura ricorsiva a livello 0 è diverso che chiamarla a livello 7 perché quando la chiamo a livello 7 la chiamerò dal livello 6 dove ho già tutto pronto sul livello 6 il livello 0 invece richiede del lavoro preparatorio in più ma poi fatto questo la procedura segue esattamente lo schema ricorsivo che abbiamo visto prima nelle slide quindi per un determinato livello se il livello è n c'è solo nel caso terminale mi metto da parte la soluzione in questo caso volevamo tutte le soluzioni non una sola poi vedremo le varie casistiche quando faremo i vari esercizi ma in questo caso ci servivano tutte le soluzioni e quindi le aggiungo a una struttura dati che si ricorda le varie soluzioni ci fa anche piacere che abbiamo scritto new qua perché ci permette di fatto di clonare la soluzione parziale e non restituire senzalmente il riferimento alla soluzione che rischierebbe di essere sempre la stessa ma questo è un altro problema che affronteremo di dover clonare la soluzione nel caso terminale e poi c'è il cuore della ricorsione che è qua come vi dicevo queste due istruzioni capisco quali sono le alternative possibili al mio livello ignorando tutti i livelli precedenti perché sono già stati decisi ignorando tutti i livelli successivi perché non spetta a me e chiedendomi quali sono le mie alternative qui non devo essere intelligente non devo dire ma la migliore è mettere un 1 oppure è meglio mettere un 2 devo provarle tutte poi ci sarà il caso terminale che decide quali sono buoni e quali non sono buoni ma potenzialmente lo devo comunque provare tutte e quindi itero con questo ciclo for è quello in cui pomposamente all'inizio dicevamo genero i sottoproblemi ecco ne provo uno per uno tutte le varie alternative creo la soluzione parziale aggiornata con in più questo livello e passo alla procedura ricorsiva il lavoro da fare sulla parte successiva che noi invece non abbiamo minimamente guardato quindi i passi base sono sempre questi lo vedete che questo codice qua se lo andate a confrontare con quello che c'è sulle slide è estremamente simile perché lo scheletro grossomodo è lo stesso ok quindi questo è un primo assaggio un primo esercizio che ci permette appunto di apprezzare cosa si può fare con la ricorsione ma nelle prossime 3-4 lezioni almeno faremo altrettanti esercizi da zero per riuscire via via a vedere le varie casistiche dove possono essersi problemi quali sono le varianti diciamo di applicazione di questo e soprattutto i vari tipi di i vari tipi di generazione dei problemi questo è un problema di di combinazioni cioè io devo trovare tutte le combinazioni possibili di questi quattro elementi e quindi semplicemente si moltiplicano uno per l'altro combinazione con ripetizione uno devo trovare tutte le combinazioni possibili in altri casi invece è magari un po' più complicato perché ci sono dei vincoli in più immaginate il vincolo del tipo non devi avere più di 2x se ci fosse un vincolo del genere nella schedina e allora a questo punto non sono più libero ad ogni livello di decidere a caso di provare tutte le alternative tutte le alternative magari alcune non sono compatibili con ciò che è stato deciso ai livelli precedenti quindi la cosa ovviamente si può complicare qui siamo partiti da un problema che è un po' strano come strutture dati ma è molto semplice dal punto di vista dello svolgimento dell'algoritmo quindi proviamo a digerire questo io vi pubblico la soluzione su Github provate a studiare provate a ripeterlo e a rimplementarlo sapendo appunto come vi dicevo che nei video successivi faremo molti altri esercizi e poi ci porteranno poi anche a farvi un paio di laboratori due o tre laboratori su questo tema della ricorsione per ora vi ringrazio e ci vediamo nelle prossime lezioni grazie a tutti